Coping Power Scuola. E' questo il progetto in favore di minori di età compresa tra 3 e 14 anni che il Municipio 2 del Comune di Bari, Commissione Welfare, ha promosso ed affidato alla Società Cooperativa Sociale Sole Luna con l'intento di coadiuvare genitori ed insegnanti nella gestione efficace dei fenomeni di disagio emotivo, affettivo e sociale fortemente incrementati sia a seguito della pandemia da Covid-19. E' un progetto di carattere tecnico, particolarmente tecnico perché vede il coinvolgimento di psicologhe che entrano all'interno della scuola per volontà del Municipio 2 che ha finanziato questa progettualità e formano docenti, genitori e alunni. In qualche maniera si cerca di creare una sinergia tra questi soggetti affinché si possa intervenire all'interno del contesto classe, ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione. In qualche maniera il coping consente attraverso tutto questo percorso formativo di riuscire ad avvicinare anche quei ragazzi che rimangono un pochettino più indietro, anche soprattutto dopo il periodo pandemico si sono attardati anche all'interno di quella che è la capacità di socializzare, insomma di dare un contributo loro attraverso un approccio sistemico. Il progetto, avviatosi lo scorso gennaio, ha visto la fervida partecipazione degli alunni di tre classi dell'Istituto Comprensivo di Amici Sla Terza, che durante l'orario curriculare sono stati coinvolti in otto incontri mirati a rafforzare la loro competenza sociale, prosociale, emotiva e relazionale. Il progetto è stato orientato a promuovere la fabilizzazione emotiva dei ragazzi e anche la capacità di gestione delle emozioni e del problem solving. Poi successivamente è stato fatto un passaggio anche con i docenti, dove veniva spiegato loro che cos'è il coping power e come usarlo a scuola. Successivamente è stato compiuto anche un passaggio con i genitori, infatti hanno partecipato ad un corso di parent training orientato a dare suggerimenti e consigli sulla gestione efficace dei comportamenti di problema.